Buongiorno e buon ugliente. Allora, anche oggi facciamo le carte delle risposte degli angeli. Anche oggi avrete una risposta dai vostri angeli. Allora, medita per trovare la risposta. Usare l'intelletto per trovare la risposta a ciò che ti preoccupa è stato inutile. Perché le soluzioni che cerchi possono essere individuate solo guardandoti dentro. Puoi fare la meditazione o puoi lavorare dentro di te spiritualmente sull'interiorità. Puoi anche ricevere intuizione dai sogni notturni. Poiché il tuo subconscio crea soluzioni inaccettabili alla mente vigile. Solo mentre state riposando, gli angeli vi potranno aiutare e mettervi sulla strada giusta. C'è sempre una soluzione ad ogni vostra domanda. Dovete solo pazientare. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.